Detto questo, noi possiamo cominciare a parlare di geopolitica. Geopolitica significa parlare di politica avendo come fulcro fondamentale lo spazio e questo però non significa che ci sia come spesso si è creduto e come spesso è avvenuto una sorta di necessità automatica nella relazione fra spazio e politica, per cui data una certa conformazione del mondo la politica la segue, è costretta a seguirla, no. Però certamente esistono delle costanti che vengono interpretate in modo storicamente diverso. Esistono delle costanti geografiche che vengono interpretate in modo storicamente molto diverso. Farle emergere, queste costanti geografiche, è utile. È utile perché ci offre una chiave di interpretazione del passato e soprattutto ci offre una chiave di proiezione e di decifrazione del possibile futuro. Ripeto, sempre con esclusione delle posizioni dogmatiche, meccaniche. È molto tempo che la geopolitica non crede più in leggi inesorabili. Tuttavia in costanti si può credere meglio e si può fare affiorare. Ora, noi dobbiamo cominciare a porre in evidenza un fatto. Il fatto è che la geopolitica è una disciplina geografica, non è una disciplina nuova. Nasce negli ultimi anni dell'Ottocento, viene praticata da autori tanto tedeschi quanto svedesi quanto statunitensi, da geografi appunto, solo per fare qualche nome, che ha avuto una pessima fama come disciplina votata all'incitamento, alla guerra e al colonialismo. Non è vero, non è necessariamente vero. E si fonda sopra alcuni assunti, il principale dei quali, che è presente in modo diverso, ma in tutti i padri fondatori che ho nominato, è che la politica mondiale, quelle che noi chiamiamo oggi le relazioni internazionali, è politica di potenza, cioè è costituita da soggetti che hanno vari nomi, possono essere stati, imperi, quello che vogliono, da soggetti che hanno, diciamo così, nel proprio DNA la spinta, la pulsione ad esercitare e ad accrescere la propria potenza e come minimo a difendersi dall'esercizio della potenza altrui. Con questo non si dice che necessariamente questi soggetti siano bellicosi, i bellicisti che debbano fare la guerra o minacciarla. La potenza ha diverse sfaccettature, c'è quella militare naturalmente, c'è quella data dalla saldezza delle istituzioni politiche, c'è la potenza economica, c'è il soft power, la capacità di egemonia culturale tanto ai livelli alti quanto ai livelli popolari. Insomma, ci sono molte modalità di esercizio della potenza. In ogni caso, le relazioni internazionali sono essenzialmente pluralistiche, sono gestite, determinate dall'interazione fra una pluralità di soggetti. Lo spazio del mondo è uno spazio uno, ma non unificato, e tendenzialmente non unificabile. Questo secondo la geopolitica, che da questo punto di vista è l'esatto opposto di altre descrizioni del mondo, come quella giuridica, come quella morale, come quella economica. Questi angoli visuali attraverso i quali decifrare le relazioni umane sono invece determinati dall'idea della uniformità e dalla universalità della nostra esistenza su questo pianeta. La geopolitica invece, ripeto, senza essere una disciplina bellicistica, parte dal presupposto, chiamiamolo, realistico, che lo spazio in questo mondo è uno spazio politicamente plurale. Questo è il primo punto. Il secondo punto fondamentale, come assunto della geopolitica, è che vi sono potenze che possono essere definite marittime, il che però non significa che debbono essere privi di una consistenza terrestre. Ma insomma, potenze definite marittime che hanno una proiezione di potenza verso il mare, sui mari, e che hanno come pratica e come obiettivo il controllo dei mari, delle rotte commerciali, delle rotte militari e dei punti geografici di passaggio obbligato. E basta fare un piccolo elenco e si capisce di che cosa stiamo parlando. Andiamo di Gibraltar, di Suez, di Djibouti, di Babel Mandeb, dello stretto di Ormuz, di Ceylon, di Singapore, dello stretto di Panama, del Capo di Buonasperanza, dello Skagerach e del Kategat, del Canale di Danimarca, dei Gardanelli, del Bosco. Tutte quelle strettoie, tutte quelle vie attraverso le quali i traffici marittimi sono costretti a passare. Una potenza marittima è una potenza che tende a controllare questi punti, questi nodi, diciamo così. D'altra parte, un altro dato fondamentale della geopolitica, un altro assunto, è che le potenze marittime devono, non è un dovere morale, è nel loro interesse primario, devono in questo senso, è nel loro interesse primario che impediscano che grandi potenze terrestri conquistino l'accesso al mare aperto. Ecco, e allora noi qui abbiamo la distinzione fra Hurtland e Rimland. Hurtland è il cuore della terra, cioè il grosso del continente eurasiatico. Rimland sono i paesi, invece, che sono sul bordo esterno di questo continente e questo è il punto politicamente fondamentale, che quello che avevo detto finora è la statica. Questo che vi sto dicendo invece adesso è la dinamica. Impedire la saldatura fra una grande potenza continentale, così ci capiamo, e un importante stato marittimo. quando questa saldatura avviene le potenze marittime vengono minacciate. Facciamo subito un esempio e così ci intendiamo. Gli Stati Uniti sono, per l'appunto, una potenza marittima, l'essenza del loro potere nei mari, dove sono incomparabilmente superiori ad ogni altra potenza. E naturalmente hanno anche una notevolissima consistenza terrestre, come è evidente. Questa consistenza terrestre se la sono guadagnata conquistando uno spazio, uno spazio appunto che va dalla costa orientale alla costa occidentale degli Stati Uniti, che non era strutturato secondo configurazioni statuali. Non c'erano stati, per cui non abbiamo visto delle guerre di tipo classico fra uno stato orientale, della costa orientale degli Stati Uniti e altri stati. No, abbiamo visto quelle che vengono chiamate le guerre indiane. In ogni caso, nell'Ottocento, nel corso di pratica del XIX secolo, gli Stati Uniti si sono costituiti come una potenza terrestre, ma questa terrestrità è per loro soltanto il retroterra della loro proiezione marittima. e gli Stati Uniti hanno sancito questa loro essenza marittima attraverso la dottrina di Monroe, cioè la dottrina avanzata nel 1823 dal presidente Monroe, che vieta l'accesso al continente americano, nord e sud americano, delle potenze europee in prima battuta. E in seconda battuta hanno sancito questa loro natura di potenza marittima con importante retroterra continentale. Lo hanno sancito con la guerra contro la Spagna nel 1898 quando hanno sottratto al dominio spagnolo Porto Rico, Cuba e le Filippine. Da quel momento in poi gli Stati Uniti sono diventati con ogni evidenza la prima potenza mondiale, come tutti sapevano, e hanno sempre avuto, ecco, così diamo una lettura geopolitica del Novecento, e hanno sempre avuto come loro obiettivo fondamentale non negoziabile e non rinunciabile questo, piena e completa libertà dei mari. Cioè, gli Stati Uniti non accettano che una potenza chiuda i mari, blocchi un passaggio, estende le proprie acque territoriali tanto da bloccare la interconnessione fra i mari del pianeta. Punto primo. Punto secondo, gli Stati Uniti hanno sempre combattuto due volte con le armi e la terza volta con la guerra fredda il tentativo di potenze continentali di affacciarsi sui mari oceanici. Questi tentativi sono stati la prima guerra mondiale, quando la Germania sia pure ancora abbastanza confusamente chiaramente tentava di diventare una superpotenza con accesso al mare, con minaccia continua verso la Francia, poi non c'è riuscita, ma questa è un'altra storia, chiarissimamente nella seconda guerra mondiale, quando gli Stati Uniti si sono opposti a una più coerente strategia tedesca, una strategia che al netto degli elementi largamente criminali che essa conteneva consisteva nella trasformazione della Germania da Stato in superpotenza continentale con l'annessione dei territori a Est e in modo chiarissimo e questa è stata la differenza rispetto alla prima guerra mondiale nel controllo dell'oceano attraverso la conquista della Danimarca della Norvegia e dei porti atlantici della Francia se la Germania avesse potuto mantenere questo assetto che andava da 100 km a ovest di Mosca fino al polo nord alla Norvegia tutta la Francia e con quello che eventualmente si poteva fare in Africa questa sarebbe stata una creazione di una superpotenza continentale con proiezione marittima e sarebbe stata una sfida insopportabile per gli Stati Uniti che per due volte hanno combattuto contro questo la terza guerra mondiale cioè la guerra fredda è stata combattuta dagli Stati Uniti con lo stesso obiettivo naturalmente questa volta l'attore pericoloso non era più la Germania sconfitta e divisa ma era l'Unione Sovietica alla quale si attribuiva il disegno di neutralizzare i paesi dell'Occidente europeo e di appunto rifare quello che aveva fatto la Germania cioè affacciarsi su un'oceano detto in un altro modo la cosa importante e impressionante è che la seconda guerra mondiale per gli Stati Uniti è stata la lotta contro una superpotenza continentale la Germania che si affacciava sull'oceano questo in Occidente in Oriente contro il Giappone capitava esattissimamente la stessa cosa ma invertita il Giappone era una potenza di Rimland una potenza cioè di un costiero periferico che per proiettarsi come superpotenza mondiale sapeva bene di aver bisogno di avere una base continentale e infatti e infatti conquista la Corea la Manciuria e conquista l'Indocina francese e cerca di conquistare le colonie indonesiane olandesi e in parte ci riesce e in ogni caso se le cose fossero andate come volevano i militaristi giapponesi il Giappone sarebbe diventato una potenza marittima con imponente base continentale contemporaneamente gli Stati Uniti combattono la seconda guerra mondiale due tentativi di due potenze di diventare ciò che essi Stati Uniti sono già detto in un altro modo è proprio la stessissima cosa l'obiettivo degli Stati Uniti è di controllare controllare in modo ferreo entrambe le sponde di entrambi gli oceani su cui il continente americano si affaccia se noi cerchiamo di capire questa frase oggi vediamo che gli Stati Uniti attraverso il patto atlantico sono per l'appunto signori dell'oceano atlantico e stiamo tranquilli dal mare dal mare dell'artico i russi non riusciranno mai a scendere per il canale di Danimarca dentro il cuore dell'oceano atlantico di questo possiamo stare tranquilli e controllano ci provano anche se qui incontrano qualche problema in più ma insomma controllano entrambe le sponde dell'oceano pacifico la propria evidentemente quella dell'America meridionale ferreamente ricordiamoci il Cile e la grande catena di alleanze asiatiche con la quale catena gli Stati Uniti stringono e chiudono la massa continentale dell'Asia se noi guardiamo vediamo Corea del Sud Giappone Filippine e poi ciò che resta dell'antico impero olandese e inglese Singapore la Malesia naturalmente alle spalle c'è una seconda linea che è niente meno che l'Australia e poi nell'oceano indiano dove per l'appunto c'è l'India che non è così facilmente trattabile una delle più importanti basi militari degli Stati Uniti in isola di Diego Garcia piazzata nel cuore dell'oceano da cui tanto per capire partivano i bombardieri al tempo della guerra in Iraq e poi il il grande il grande passo falso degli americani l'Iran l'Iran che era uno dei pilastri della cintura statunitense intorno all'Eurasia il pilastro perduto nel 79 per una cecità politica sensazionale pilastro perduto mai più riacquisito e non a caso l'Iran è il grande nemico degli Stati Uniti perché l'Iran attraverso quello che si chiama il corridoio sciita ha il collegamento fra l'Oceano Indiano e il Mediterraneo cioè attraverso la Siria e Gaza inemicizia geopolitica non altro quella che lega come nemici l'Iran e gli USA l'altro pilastro del contenimento della massa eurasiatica è evidentemente la Turchia come signora degli stretti che blocca la discesa della Russia fuori dal Mar Nero bloccava perché c'è stata una falla nell'interesse statunitense verso il Mediterraneo da Obama a Trump e ovviamente ci si sono infilati i russi e poi la cortina di ferro e poi i territori di frontiera della Nato fra cui l'Italia e poi la vittoria della terza guerra mondiale cioè della guerra fredda e l'avanzata della Nato in tutti gli stati che precedentemente facevano parte del patto di Varsavia o addirittura erano repubbliche sovietiche come gli stati baltici se noi guardiamo a ciò in questo modo noi abbiamo un'idea un po' realistica delle relazioni internazionali cioè l'idea di una lotta molto dura molto aspra fra un sistema di alleanza americano la Nato la Seato l'Anzus che chiudono il blocco eurasiatico e il tentativo invece di coloro che del blocco eurasiatico fanno parte di forzare questa cintura e di sboccare sul mare la Germania non ci prova più ci ha provato per due volte non ci prova più la Russia ci prova sempre ma è la più svantaggiata è la più debole adesso sta toccando alla Cina la Cina che è chiusa chiusissima dal Giappone e dalle isole che chiudono il mar cinese meridionale che vuole uscire nell'oceano Pacifico ricordiamoci che la Cina riceve il petrolio di cui ha un enorme bisogno e che non ha in proprio attraverso Singapore evidentemente lo stretto di Malacca e che questo è letteralmente la vena giugolare dell'economia cinese molto facilmente chiudibile diciamo così reseccabile la Cina che ha una cosa va detta subito non ci sono assolutamente giudizi di valore nell'ambito geopolitico non si deve e non si può dire che le pulsioni di potenza statunitensi sono migliori o peggiori di quelle cinesi o di quelle russe di quelle tedesche al tempo della seconda guerra mondiale lo si può dire perché i tedeschi ci hanno messo in aggiunta il più grande crimine della storia moderna ecco il più grande crimine della storia moderna questo è in generale in generale la geopolitica è la descrizione dinamica di possibilità implicite nella conformazione geografica e nei poteri economici dei territori senza giudizi di valore o meglio dandosi per scontato che la politica internazionale lavori per l'appunto in questo modo ora la Cina vi dicevo chiusa chiusissima dal sistema di alleanza americano naturalmente si muove non può essere trattenuta si muove in due direzioni come è ovvio la prima è niente meno che l'ANZUS cioè questo sistema di alleanze statunitense a base statunitense con il quale la Cina non più di tre mesi fa ha stretto un importantissimo accordo commerciale che trasforma quei territori territori in parte di quella che il Giappone chiamava la sfera di coprosperità della più grande Asia ci sono appunto i ritorni nella storia la Cina ha fatto questo naturalmente l'ha fatto senza spargere sangue e questa è una bella differenza rispetto al Giappone intendo ma lo ha fatto lo ha fatto perché la sua diciamo invincibile potenza economico-demografica deve uscire dal continente e sta uscendo sta uscendo nella nel Pacifico meridionale quella che si chiama la Australasia e l'altra l'altra direttrice attraverso la quale la Cina sta tentando di forzare il blocco americano è quella che la Cina chiama la via della seta cioè un attraversamento tanto per terra dove però si incontra il problema India quanto per mare passando attraverso Ceylon cioè l'attraversamento retrogrado del continente eurasiatico per arrivare nei paesi islamici del Medio Oriente e di lì per risalire fino all'Europa una saldatura fra Cina e Europa ricordiamoci una cosa in questo momento la Cina è il più importante partner economico della Unione Europea non è non sono gli Stati Uniti il più importante partner economico dell'Unione Europea è la Cina che sbocca su Hamburgo sbocca su Rotterdam in una proiezione di potenza assolutamente spettacolare davanti alla quale gli Stati Uniti sono in Stati Uniti di Obama di Trump vedremo quelli di Biden sono assolutamente sulla difensive e in grave difficoltà perché hanno davanti a sé diverse opzioni e non hanno ancora capito bene da che parte muoversi in questo momento gli Stati Uniti hanno tutte le caratteristiche di una potenza in declino la principale di queste caratteristiche è di essere sovradimensionata sotto il profilo militare e di essere attraversata da profonde divisioni politiche e culturali interne sotto il profilo militare gli Stati Uniti hanno una potenza assolutamente esorbitante che basta da sola per tutto il sistema solare per quanto riguarda invece la capacità di progettare se stessi stanno facendo fatica Trump era il classico esempio di questa fatica il suo motto di fare nuovamente grande gli Stati Uniti in America implicava il fatto che gli Stati Uniti non fossero più grandi e da questo punto di vista aveva abbastanza ragione la scienza politica statunitense sta macinando da almeno vent'anni la tematica del declino con impressionanti proiezioni analogiche rispetto al declino dell'impero romano naturalmente nessuna meccanica analogia ha senso e tuttavia in questo momento i Stati Uniti hanno davanti a sé alcune possibilità e non hanno ancora deciso da che parte muoversi hanno davanti a sé la possibilità che riesce loro più facile anche in virtù della loro cultura politica cioè la guerra fredda la guerra fredda contro contro la Cina ma naturalmente la guerra fredda la guerra fredda vuol dire chiamare a raccolta l'Occidente stringere i legami occidentali schierare l'Occidente contro il nemico una cosa è fare ciò però come è stato fatto contro l'URSS che è un paese enorme ma povero spopolato e sostanzialmente dotato esclusivamente di forza militare e di una capacità di convincimento ideologico nei confronti di alcune aree del mondo soprattutto le aree coloniali altra cosa è impiantare una guerra fredda contro un paese enormemente grande enormemente ricco enormemente popolato che certamente non ha sostanzialmente soft power perché la Cina è poco decifrabile culturalmente benché abbia una cultura di altissimo livello ovviamente ma è poco decifrabile culturalmente per via della lingua e certamente non è un nemico ideologico perché non ha una capacità propulsiva come centro rivoluzionario mondiale tuttavia la Cina ha una capacità di attrazione verso paesi del terzo mondo una grande capacità di attrazione verso i paesi del terzo mondo e verso l'Africa soprattutto se noi guardiamo la distribuzione dei vaccini la geosanità è l'ultima sottospecie di geopolitica voi vedete che i vaccini i vaccini cinesi vengono portati dalla Cina tanto nei paesi arabi quanto nei paesi africani dove vengono addirittura prodotti cioè in Marocco ora la Cina ha una capacità di penetrazione in Africa perché non ha un passato coloniale e poi perché esercita la propria egemonia il proprio predominio in modo più sottile in cambio di ciò che cerca o materie prime o terra terra coltivabile non fornisce denaro per corrompere il dittatore di turno ma fornisce prestazione di servizi costruzione di infrastrutture cioè beni visibili e utili la penetrazione della Cina in Africa è un fatto dicevamo gli Stati Uniti hanno davanti a sé la prospettiva di una guerra fredda sono tentati a ciò certamente ma bisogna anche tenere conto del fatto che l'interscambio economico finanziario fra Cina e Stati Uniti resta comunque sia molto massiccio e progettare quello che gli Stati Uniti chiamano il decoupling cioè il disaccoppiamento fra le due economie è un progetto molto doloroso anche per l'economia degli Stati Uniti la Cina detiene una notevolissima parte del debito pubblico americano anche se ha smesso da un po' di comprarlo la Cina ha rapporti con gli Stati Uniti che interrompere i quali sarebbe doloroso per la Cina ma doloroso anche per gli Stati Uniti gli Stati Uniti hanno davanti a sé un'altra ipotesi quella cioè di tornare a essere la potenza leader del pianeta ma questa ipotesi si scontra col fatto che il genio non torna dentro la lampada la la Cina non torna a essere un paese miserabile come ai tempi di Mao e se gli Stati Uniti ci provano a ciò provano questa linea di massiccio revancismo abbiamo tutti molti gravi problemi gli Stati Uniti hanno davanti a sé un'altra linea che è quella del multilateralismo il multilateralismo non è né l'isolamento né la guerra fredda contro la Cina è pluralismo gli Stati Uniti non sono molto adatti a pensare alle relazioni internazionali in chiave di multilateralismo perché di fatto al di là di quello che hanno detto di fatto si sono sempre pensati o come l'impero del bene contro l'impero del male o come il guardiano del mondo il poliziotto del mondo la superpotenza buona solitaria fanno molta fatica ad accettare di trattare con altri centri di potere non con un altro nel quale e in questo caso si mette all'opera il rapporto appunto bene e male ma con una pluralità di altri con quello che una volta con riferimento all'Europa si definiva il concerto delle potenze ecco essere una potenza in mezzo ad altre potenze è ciò da cui gli Stati Uniti hanno sempre rifuggito perché in questa logica non si riesce a operare questa è una logica che non rientra nell'eccezionalismo americano ecco ora che piega prenderà la situazione delle relazioni internazionali è molto difficile da dire la geopolitica non dà necessariamente le risposte la geopolitica aiuta a porre le domande vi dice anche quello che non è accettabile per qualcuno degli attori ecco ma quello che poi succede dipende dai variabili infinite che nessuno può controllare a priori certamente certamente una cosa sta dietro la analisi geopolitica l'analisi geopolitica come vi dicevo parte dal presupposto che le relazioni internazionali sono qualche cosa di plurale dunque parlare di geopolitica significa dare per scontato che la globalizzazione non ha funzionato che la globalizzazione è o interrotta o in via di interruzione detto ancora in un altro modo significa dare per scontato che lo spazio del pianeta non è uno spazio liscio ma è uno spazio striato quello che va detto però è questo la globalizzazione era il sogno del capitalismo e al tempo stesso il sogno del diritto internazionale e al tempo stesso il sogno della morale cosmopolitica questi sogni sono infranti essenzialmente perché prima di tutto perché esiste la Cina che con Deng Xiaoping ha operato la più rilevante decisione del ventesimo secolo sostanzialmente cioè quella di fare della Cina un attore della modernità e non il custode della tradizione poi bisogna anche dire che la globalizzazione benché interrotta nel suo sogno di universalismo senza increspature benché interrotta non di meno ha lasciato e lascia un deposito un sedimento che è non superabile cioè il capitalismo si è affermato come l'unica forma l'unica modalità di produzione efficiente di questo mondo e ha stabilito un sistema di relazioni e di catene di valore come si dice a livello mondiale che possono essere indebolite ma che non verranno incompletamente interrotte cioè il reshoring quello che gli americani chiamano il reshoring cioè il riapprodare a casa dopo che si è stati a lungo fuori 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 di metafora il rientro delle forze produttive dopo che si erano disperse nel mondo alla ricerca di produzione sotto costo il reshoring di per sé può anche avvenire ma nel senso che un'impresa statunitense può rientrare effettivamente negli Stati Uniti ma questo solo perché dove essersi era insediata si sono nate si sono sviluppate industrie locali e forme produttive locali che continuano a essere intrecciate con quelle di tutto il mondo il punto è che quello a cui stiamo assistendo è il fatto che le logiche economiche non sono più posto che non siano mai state ma insomma certamente oggi non sono più le uniche che hanno rilievo nella descrizione delle relazioni internazionali nelle relazioni internazionali oggi c'è anche la dimensione politica per capirci dobbiamo chiarire questo insomma che i centri i soggetti della politica internazionale sono dei centri di gravità che sono abbastanza potenti da riuscire a orientare deviare ecco i flussi economici detto ancora in un altro modo noi oggi stiamo constatando che non esiste il capitalismo globale esiste il capitalismo statunitense il capitalismo tedesco il capitalismo cinese il capitalismo indiano il capitalismo giapponese cioè certo la logica del profitto è quella che vale e comanda ma questa logica del profitto è tornata contro voglia contro voglia è tornata non dico sotto il controllo della logica politica perché non c'è un controllo diretto della logica politica ma è rientrata dentro l'orbita della logica politica detto in un altro modo i grandi soggetti della politica mondiale non sono soltanto i serventi dell'economia capitalistica e delle grandissime imprese multinazionali no non sono soltanto i serventi quando c'è bisogno i centri di potere politico sono quelli che comandano il caso cinese è il più evidente cioè la Cina fa ad opera utilizza l'economia ovviamente per produrre profitto e ricchezza ma al tempo stesso altrettanto ovviamente per incrementare la potenza politica del soggetto che si chiama Cina popolare gli Stati gli Stati Uniti sono in una posizione diversa per la diversa strutturazione interna del potere diciamo così eppure è difficile negare che gli Stati Uniti utilizzino le proprie gigantesche capacità economiche a scopi politici cioè non sono soltanto la cannoniera che segue il mercante gli Stati Uniti sono anche la cannoniera che è seguita dal mercante o comunque sia la cannoniera e il mercante vanno insieme verso destinazioni che a volte sono decise dal mercante ma ormai sempre più spesso sono decise dalla cannoniera l'uso strategico del capitalismo non è una novità ma oggi è ancora più evidenza infatti si vede la debolezza della Russia è che la Russia per fare strategia ha soltanto la forza militare e la vendita di materie prime gas all'Europa se noi se noi sulla base di quanto abbiamo detto finora guardiamo la carta geopolitica ma a questo punto geoeconomica anche del mondo noi vediamo dunque che ci sono in questo mondo catene di valore cioè logiche economiche di produzione e di commercio ma vediamo che vi sono anche catene di potenza cioè logiche politiche di occupazione di spazi logiche politiche di sostituzione di soggetti egemonici vogliamo un esempio macro una logica politica deflagrante sarebbe quella che veda unite strategicamente la Russia e la Cina se la Russia e la Cina nonostante gli sforzi degli stati uniti che questo l'hanno ben chiaro fin dai tempi di Nixon l'hanno ben chiaro per l'interesse degli Stati Uniti devono essere separati e ostili se la Cina e la Russia costituiscono qualche cosa di più solido del trattato di Shanghai che oggi li lega ma poco ecco allora diciamo che Hertland la massa continentale eurasiatica di fatto si è ricostituita non conosce più divisione al proprio interno e eserciterebbe questo una pressione invincibile sulla Corea e sul Giappon per cui agli Stati Uniti conviene e sempre converrà questo è controfattuale ma se ci pensiamo è vero utilizzare come proprio asse come più asso nella manica la Russia la Russia come fattore di divisione rispetto al possibile costituirsi di una massa euroasiatica in Oriente e la Russia come fattore di divisione in Occidente rispetto all'Unione Europea cioè quello che non deve capitare per gli Stati Uniti è che l'Unione Europea e particolarmente la Germania e la Russia vadano troppo d'accordo e allora noi capiamo qual è la strategia statunitense nell'Ucraina e noi capiamo qual è la strategia statunitense per quanto riguarda i gasdotti che portano il gas dalla Russia la Germania e queste sono delle linee di decifrazione della politica internazionale che con ogni probabilità non cambieranno molto se gli Stati Uniti continueranno come pare evidente a voler tenere sotto controllo a voler avere un rapporto forte con l'altra sponda dell'Atlantico cioè con l'Europa ricordiamoci sempre che appunto sono state fatte tre guerre mondiali per tenere legata l'Europa agli Stati Uniti grazie a tutti